306 nuovi casi in Abruzzo, il 9,7% dei test processati, 3.149 nelle ultime 24 ore. I nuovi casi riguardano persone d'età compresa tra 7 mesi e 94 anni. 145 di questi sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 501. Si tratta di una 75enne di Pescara. 127 dei nuovi casi fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 45 a quella di Chieti, 36 a quella di Pescara e 100 a quella di Teramo, mentre uno proviene da fuori regione. I positivi con età inferiore a 19 anni sono 43, di cui 12 nell'Aquilano, 3 nel Pescarese, 6 nel Chietino e 19 nel Teramano. Attualmente in Abruzzo vi sono 3.376 positivi, più 285 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 208 pazienti, meno 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 16 più 2 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 3.152 più 287 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità.